Buongiorno amico. Vieni, ti dico subito qual è il lavoro. Quello che mi serve più che altro è una mano nel locale. Vede al momento dei disturbi che mi impediscono di lavorare. Sembra in salute. Sono i piedi. Vogliono sempre andare in giro per il mondo. Però il locale ha un aspetto gradevole. Come si mangia? Ora ti faccio un bel hamburger, omaggio della vita. Davvero? Per dimostrarti come mangia chi lavora per me. Ti intendi un po' di automobili? Sono un meccanico nato. Magnifico. Siediti. Certo la paga non sarà la più alta del mondo, è vero? Ma qui non hai spese. Mangiare e dormire te ne passo io. Un molletto con materasso a molle. Aria fresca, luce del sole, una vita da gran signore. Interessante, potrei provarci per qualche giorno. Bene. Un cliente. Vada pure, con me non in cassa. Ci penso io all'hamburger. Grazie. Lontanandare?